Abbiamo un team internazionale, allora, cambio lingua, parlo in inglese, we have two Czech players from Prague and one German player from Kalshue, so let's welcome to the red carpet here at FBA World 2012, Jakub Kostel, Jakub Oschek and Rainer Dorf! Guys, tell me when you're ready. Musica! 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 Sic utilizzerino cambiamento di effetto Musica! Musica! Grazie a tutti. 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 30 secondi, 30 secondi. 30 secondi, 30 secondi. 30 secondi, 30 secondi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.